Domani in Piazza Cavour Fratelli d'Italia fa una raccolta firme. Di cosa si tratta e quando si svolgerà l'appuntamento? Sì, Fratelli d'Italia domani in Piazza Cavour per sostenere una delle sue più importanti battaglie. Raccoglieremo le firme per quattro proposte di legge e di iniziativa popolare. Chiediamo l'abolizione dei senatori a vita, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il tetto alle tasse in Costituzione e la supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo. Invitiamo tutti i cittadini, al di là del proprio credo politico, a partecipare, a sostenere. Si tratta di tematiche che hanno una valenza popolare, volte alla creazione di un Paese che sia innanzitutto moderno, un Paese che abbia delle regole certe, un Paese che non venga condizionato dalle scelte momentanee di questo o di quel partito politico, ma che rispecchia e rispetti la volontà popolare, così come viene dettato alla nostra Costituzione. Quindi vi invitiamo tutti a prendere parte a questa iniziativa, ci vediamo domani alle ore 10 a Piazza Cavour, vi aspettiamo.